Ciao e benvenuto sulla video guida dedicata alla Toneport UX2 realizzata da Michele Busdraghi che saluto. In questa video guida scoprirai tutti i dettagli interessanti e importanti di questa scheda che pare essere molto valida per gli home studio, specialmente quando si tratta di registrare chitarre e chitarristi. Se hai un piccolo home studio in cui hai difficoltà a registrare cabinet, quindi amplificatori ad alti volumi ecco sicuramente la Toneport può essere una valida alternativa perché corredata di un software che Michele ci spiegherà abbastanza in dettaglio. Quindi a te la video guida, la video recensione sulla Toneport della Line6 e a seguire il video di approfondimento molto interessante, molto ben curato da Michele. Complimenti Michele, continua così perché le tue video guide sono veramente, veramente interessanti. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao, un saluto a tutti gli amici di scuolasuono.it ed appassionati di recording. Io sono Michele Busdraghi dell'Automaticos Studios di Firenze e in questa video guida parleremo della Toneport UX2, della Line6. La Toneport è una scheda audio esterna compatibile sia Mac che PC, molto semplice da usare ed essenziale. Per essenziale non intendo che ha pochi ingressi o uscite o che è una data per alcuni lavori, ma semplicemente che risponde alle esigenze tecniche richieste da un home studio. Il target di utenti a cui si rivolge sono principalmente i chitarristi, ma può essere utilizzata anche da musicisti che posseggono un home studio e lavorano principalmente con i software. La chitarra è difficile da replicare con un programma di strumenti virtuali e possedere una scheda audio del genere risolve questo tipo di problemi. Ad esempio un chitarrista che viene nel vostro studio per registrare una parte di chitarra può utilizzare la Toneport. Così facendo potiamo evitare l'uso di software. Quindi abbiamo un duplice vantaggio. A noi dello studio non occorrerà perdere ore di lavoro per ricreare una chitarra su software e il chitarrista potrà suonare la propria parte come piace a lui. Non c'è nemmeno il rischio di fare una chitarra con il software e poi al chitarrista non piace. A mio parere la Toneport è pensata per fornire un prodotto semplice da usare e versatile. Infatti può essere utilizzata per chitarra a basso e voce e possiede delle caratteristiche tecniche in grado di reggere gli standard richiesti dall'audio professionale. Vediamo ora le specifiche tecniche. Interfaccia di connessione usb attualimentata Conversione sample rate 16 e 24 bit 44.1, 48 e 96 kHz parametri che rispondono ai criteri di standard dell'audio e del video professionale due input XLR con preampo microfonico due input strumento, chitarra e basso due V-meters, driver low latency essenziali per l'utilizzo di strumenti virtuali due input di linea due ingressi e foot switches un'uscita digitale un monitor in stereo due output analogici un output per le cuffie oltre 100 dB di rapporto segnale rumore che è un buon rapporto se pensiamo alle schede audio in circolazione convertitore analogico digitale 24 bit questo è molto importante perché permette di registrare le nostre tracce a 24 bit che per ora è lo standard di risoluzione nei software sequencer due fader microfonici un fader per cuffia e uno per il master vediamo ora i due software in dotazione Gearbox Podfarm con 23 amplificatori per chitarra e basso 6 preampo microfonici e 10 stompbox per gli effetti quindi viste le specifiche tecniche possiamo dire che la tom portox 2 è una scheda audio che racchiude tutto il necessario per un home studio per ora è tutto nel prossimo video vedremo vari esempi pratici di utilizzo del software Podfarm dei preset degli effetti e della modalità di registrazione su sequencer ti ricordo che per accedere al video di approfondimento sulla tom portox 2 deve effettuare la registrazione gratuita ciao Ciao.